Nelle campagne di Mondovì, verso la fine del Settecento, andava in giro una compagnia con uno strano equipaggiamento. C'è un uomo a cavallo, col cannocchiale! Ed i tipi iniziano a misurare. Con una bussola e una lidada, sopra una tavola pretoriana, lavora il geometra Viliada, esperto di geometria piana. Misura i campi e le abitazioni, facendo mille triangolazioni, per realizzare un nuovo catastro e stabilire con equità le tasse da pagare a Sua Maestà. Per cinque anni hai calcolato e molti disegni hai realizzato. Geometra Viliada, ma quanto è faticato! Si te avrei pagare a Sua Maestà sia facile, a superta da te invita... Però non may da te soruiona, mai costruire con equità le tasse da pagare a Sua Maestà, questi termini ho troppo sono stati necessari.